Fatto la vea con subite paure, trovarvi qua di là strani viaggi. Quest'anno facciamo poesia, la poesia è molto diversa dalla prosa, ma dopo c'è un abisso e tutta un'altra cosa, capito? Cioè, nella poesia ogni parola è un mondo, e noi un po' di mondo io dobbiamo regalare, capito? Per te cacciata son del ralseggio, dove più ritornare non spero mai, ho perduto l'onor, chi è stato peggio? Né mio ferir di dar lo scudo in dono, o quel destrier, che miei, non più tuoi sono? Volevo dire che Ariosto è qui, a corte, siamo nel 1516. Avete sentito del bestseller che è uscito a dirlo a loro rumo? Bestseller? Bestseller? Ti parlano tu! Un mondo raccogliere! Nel bestseller c'è la storia di una ragazza bellissima! Terrate! Vai con ste cassoni! Vietate le angoli! Ma perché lo siano? Lo so, te lo sentite! Il cassone, ragazzi! Non cazzo!